Prendono forma le giunte in Regione Piemonte nel comune di Alba, mentre a Brà Gianni Fogliato è eletto sindaco al ballottaggio. Nel Cunese un giovane su sei non studia nemmeno lavoro. Si profila l'ennesima beffa per l'autostrada a Sticunio con maggiori costi per lo Stato e gli automobilisti. Presentato un progetto per un parco fruviale che valorizzi il Tanaro. Cresce il turismo nell'Albese mentre Cunio arretra. La giornata mondiale è l'iniziativa della comunità laudato sì per la tutela dell'ambiente. Dopo anni passati a costruire l'ospedale di Alba e Brà, 11 operai stanno per essere licenziati. Anche ad Alba si sfidano a Colpi d'Ascia, uno sport che viene dall'America. A Barolo parte il Festival Collisioni e Brà lancia la manifestazione CIS di settembre. Questa e tant'altra notizia su Gazzetta d'Alba. Ne dico le online dal martedì.